Musica Amici miei bentornati qui su Bandra Gaming il canale più picchiato del tubo perché come ricorderete benissimo nel precedente episodio ci hanno picchiato, ci hanno lasciato senza cibo ci hanno massacrato, ci hanno lasciato nel deserto ma ci hanno salvato ragazzi quindi vediamo assolutamente come è andata a finire riprendiamo la storia ok, Boaspectre obiettivi primari difendi la struttura degli attacchi dell'SDC unità disponibili che è questa cosa qua? chi è? si? dimmi, sono io? ammiraglio, si bella, biondo grazie comandante ma esercizi ma se figuri c'è problema guardate che bel tipo presidente Tian Shao ciao Tian Shao leader dell'esercito cinese e a capo delle forze armate SDC è un cattivone lo stronzo fa il tour si anche con le autorità cinesi pure lo controllano tanto quanto noi è una mina vagante del cazzo si quanto sei ti spunta un fiore in bocca proprio sei delicatissimo il presidente il presidente Xiao si tiene la Russia in pugno e noi teniamo lui si fammelo scrivere sull'orologio se i russi cedono e si uniscono all'SDC avremo la coalizione più forte al mondo si il piano di Menendez è proprio quello di mettere le superpotenze l'una contro l'altra Iran e India sono entrambi minacciati l'SDC è pronta ad agire ok e qui entra in gioco il Jason li difendiamo noi così loro si alleano con noi e uccidiamo tutti ecco pure bene roba positiva pure la base Spectre è vitale per il confine Nord India si la via più rapida è un lancio ad alta quota ecco il nemico punterà a neutralizzare la rete difensiva attaccando generatori e stazioni satellitari carini senza la rete per loro sarà uno scherzo accedere alla sala di controllo principale ma ci saremo noi dal caso addio alla base Spectre e in India sarà il finimondo pure no 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 dobbiamo assolutamente interrompere queste barbarie perché noi siamo i buoni forse non si sa mai noi ammazziamo tutti andiamo avanti ammazziamo tutti ma se saremo noi i buoni ma non ho capito questa cosa però facciamo parte insomma di di questa di questa fazione quindi vedi completare l'attestramento al controllo di base ACB delle unità schierabili completare l'attestramento ad atti avanzati di comando e controllo ma che dobbiamo fare? obiettivo 3 completare l'attestramento tattico al combattimento e il comando terrestre ma giochiamo andiamo avanti non ci curiamo di queste cose su tu che vuoi imparare qualcosa tu che vuoi imparare qualcosa a me oh 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 allora ma stai caricando? mi stai trollando? il mio pc dopo ecco premi per saltare scattiamo dopo il format mi sta trollando il mio pc questo lo so che lo sapete che è un cane un cane meccanico puoi saltare il tutorial in qualsiasi momento selezionando salta tutorial nel menu di pausa e io salto ragazzi lo saltiamo perché noi siamo esperti che cosa ho fatto? ho saltato davvero il tutorial tutto questo perché perché sono un povero un povero minchione che da per sottointeso che sa fare tutto quanto quando in realtà non è così non è proprio assolutamente così e perché faccio ste cagate? non lo so perché ragazzi confido in voi vai posizione difensiva trasformatore postazione difensiva torri di raffreddamento posizione difensiva 3 satelliti di comunicazione andiamo avanti nata avanti come diceva un mio amico chi è? non mi picchiate aspettate un momento chi è? il cagnolino meccanico ho sentito il rumore del cagnolino meccanico ahhh no ma perché devo venire sempre dal cielo io? ma che so difendi la struttura dagli attacchi dell'SDC premi mouse 4 per ordine per ordine alla squadra premi tab per visuale tattica oh cazzo aspetta aspetta non so pronto non ho fatto il tutorial grazie no premi questo per un ordine generale è questo? le unità non possono essere posizionate in quel luogo premi tab per la visuale tattica ok premi tab per controllare queste unità ma soprattutto che devo fare io? difendi C ok poi difendi B allora sì qualcuno difende B ci deve stare e basta oddio cos'è sta cosa? arrivo forza nemica tra 7 secondi no aspetta aspetta no aspetta non so premi 4 per ordinare eh sbrigatevi tieni per muto 1 per cambiare unità controllo torretta chi è? controllo torretta controllo torretta chi è? sono loro brutti uccidetele uccidetele amici uccidetele aspetta cos'è questo? no aspetta difendi la fabb 10 minuti di difendi la fabbrica ma voi siete scemi aspetta aspetta non ci sto capendo un cazzo tieni per muto questo per cambiare unità aspetta 2 cos'è questo? bello aspetta aspetta chi c'è qua? chi è? aspetta 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 ah belli faccio fare una brutta fine dieee ok bersaglio eliminato via che devo fare qua? premi 5 sbrigamosi aspetta aspetta ma come antene sotto attacco? attacci tua tiè becca questa tiè arribecca questa non t'ha zardante avvicinare a cane meccanico io te faccio il culo te faccio tiè becca questa e pure qui aspetta ma è finito tutto difendici aspetta che vuol dire difendici oh cazzo sono rimasto solo io qua aspetta aspetta torre di raffettamento quasi distrutta aspetta maledizio no chi è che mi spazia portacci ostri portacci ostri aspetta ho capito cazzo non è compromesso io sono pippa che devo fare ma questo è amico mio mica lo so vabbè non ce ne curiamo tanto ormai è andato tutto a farsi fottere immagino aspetta le unità sono arrivate che vuol dire che unità sono arrivate i rinforzi sono arrivati i rinforzi aspetta tieni spazio per raccogliere che devo raccogliere i soldi mi date qualche soldino 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 befanalizio morite tutti orribili siete orribili io sono il buono qua aspetta chi è questo no 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 aspetta aspetta massa che stecca che ho preso due due visuale tattica visuale tattica aspetta aspetta eh uno no tre questo andate andate aspetta subiamo perdite ho capito che devo fare non è colpa mia se non ho fatto il tutorial sono una pippa lo sapevo io allora no aspetta uh chi è questo aspetta allora chi è quest'altro ma non si può riparare riparati ahhh muori muori cosa inutile via ok poi che ci abbiamo basta finita chi è chi è che spara a chi villalor vidaloca latavir vidaloca aspetta 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 tiè becca questa ma che so si spara tampax che tira sto coso chi è chi è là in fondo guarda che tacchiappo te faccio la festa che cazzo di missione raga che cazzo di missione è questa no questo è buono scusa rilevata nuova attività nemica dove oh non tazzardare non toccare il mio nemico il mio amico i miei nemici puoi toccarli quanto vuoi allora aspetta c'è 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 aiuto chi è che c'è c'è sta qualcun altro che qua bene finita lì non toccare non toccare le mie unità scusa amico non l'ho fatta apposta o forse si ah bastardi vinciterò tutti allora che ci abbiamo oddio oddio no aspetta aspetta brutti chi è mortacci no no aspetta 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 non mi fate il male non mi fate il male aspetta chi è questo abbiamo un ferito figurate quanto so ferito io qua cioè c'ho altri 5 minuti che devo difendere sta fabbrica io non ce la farò mai così ma come fai io sto a sclerare adesso sto a sclerare oh cazzo mi sono a finire le mi sono aspetta ho finito tacci vostro mi ammazzo col ah stupido ti è becca questo no ho finito ho finito pure questo aspetta bello star mozza aspetta non mi toccate non mi toccate non mi toccate che vi faccio la festa vi faccio vi faccio la festa posticipata chi è qua non mi toccare aspetta ti prego ti prego resisti 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 non mi aspetta aspetta resisti ti prego ti prego ti prego Oddio la bomba La bomba Bravo Bravo amico mio Super torretta invincibile Vai Vai Sì 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 Oddio chi è? Tacci Ma L'animaccia tua Ah Aspetta Ma non possiamo fare Tipo Eh ho capito Che devo fare Aspetta Tre Aspetta Allora Eh qua sono rimasti Eh Ma quale evacuazione medica Tu devi rimanere qua Devi rimanere Oddio scusa Scolz Non l'ho fatta apposta Come quad nemici Mi dai visti quad nemici Aspetta Non sono pronto a tutto questo Aiuto Perché non ho fatto il tutorial Sei un brutto minchione sei Allora Io là dovevo tornare Perché è lì che c'è bisogno di me Aspetta No no ci stanno 87 nemici Ma che è stato a scavalcare Come quando eravamo ragazzini Ma che è stato Ma che è stato a scavalcare Ma non vado Andate Tiè Beccate sto Beccate questo Tiè Tiè Colpito Uomo a terra Uomo a terra Ripeto Calpelper Uomo a terra Uomo a terra Aiuto Aiuto Tiè Scavalca Scavalca Che io Ti faccio la festa La festa figliore Ti faccio Ti faccio la festa Che c'abbiamo qua? Allora Caricatore rapido Dispositivo di Sì Mi piace Non so che diavolo di arma sia Ma Chi è questo? Ma crepa Ah 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 Non voglio morire Non voglio morire Ho fatto sette minuti incredibili 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 nel senso che So sopravvissuto Ecco Aiuto Aspetta Aspetta Vabbè Oh Non mi toccare Non mi toccare l'antenna Super doppio senso Non mi toccare l'antenna Aiuto Non ci sto capendo un ceppo La mia antenna Salvate Chi è qua? Perché non mi fa entrare? Fammi entrare Fammi entrare Aspetta Guardate che cazzo Cazzo Aspetta Sopravvivi Respira Respira Amico mio Respira Che ce l'abbiamo ancora De facqua Aspetta Ho capito Aspetta Cambia tutto Allora Uno qua Vai amico mio Vai Tre Quale trasformatore? Aspetta Ma dove truppe fresche? Io spero dei mie Perché se no Ho un problema qua Oddio Oh cazzo Dove Dove Mi ha teletrasportato? Barriere fuori uso Cazzo 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 Inforzi alleati Eccoli Inforzi alleati Oddio Oddio No aspetta Aspetta Cazzo Chi è? Oddio Un drone kamikaze No 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 Aspetta Non t'ha zardato Ma quanti sono? Sono i miei questi Vè? Tacci vostri Aspetta Il drone Guarda attività nemica Dove? 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 Ma dove? Cazzo Cane Vai Attiva di cane Non si attiva Il cane non si attiva Dove stanno ste merde? Chi è qua? Oh un cagnolino Ciao cagnolino Tiè becca sta bombazza No Non volevo questo Cazzo Non volevo questo Oddio Oddio No 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 Aspetta 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 Tiè becca questa Ciao Ciao Ah Maledetto Sei un cane che non si lascia Non si lascia comandare E io scappo Ciao Me ne vado proprio Ma che me frega a me Tu continua a menare Menare chi te pare E io intanto vado qui sotto Difendi la fabbrica Da che mi mancano 30 secondi E l'abbiamo portata At home A casa Aspetta Aspetta No 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 Aspetta Aspetta siete troppi 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 Ti prego Ti prego Ti prego Non mi uccidere Aspetta Chi è sto coso? Oddio Ornano Aspetta 4 secondi Ti prego Che ce l'ho fatta Ti scongiuro Ti prego che ce l'ho fatta Elimina le forze nemiche restanti Sì, le eliminerò tutte Chi è questo? Aspetta, dove sta il cagnolone? No, è morto il cagnolone, è meglio così Vai, vai, vai Chi è rimasto qui? Chi è che è rimasto? L'abbiamo distrutti tutti Il mandala li ha fatti fuori tutti Chi è qua? Non c'è più nessuno, è rimasto un minchione là sopra Adesso ti stano Ti stano Eccoti qua, ciao Sì E dai Sì, morite tutti Fuggite, fuggite State fuggendo, eh State fuggendo, eh Vi spezzo le antenne Yes Achievements bloccato, difensore, missione riuscita Oddio ragazzi Che missione del cazzo, lo posso dire? Sì, lo posso dire Mamma, conferma, sì sì, confermiamo assolutamente Perché Ci dovesse ribensare, ci dovesse far ricominciare tutto da capo Vittoriosi come sempre ragazzi Vai così Ragazzi, mi ha trollato Mi è crashato il gioco Ok ragazzuoli Per fortuna la missione C'è la data per buona Io spero che questo video vi sia piaciuto amici miei È stata una missione un po' particolare Un po' tipo Alla Starcraft Supreme Commander Per chi se lo ricorda Ragazzi Spero che ribadisco Spero che abbiate passato delle buonissime feste Io l'ho passato un po' così Alla cavolo Tra l'influenza E altre cose che succevare Comunque mi sono divertito Sono stato bene Ragazzi Come sto bene con voi Lo sapete Io vi voglio bene E Spero che le cose continuino in questa maniera Quindi Io vi rimando al prossimo video Se il video vi è piaciuto Mettete un bel pollicino Condividete il canale come sempre E alla prossima amici Il Capitano Mandra vi saluta Ciao